Allora, io voglio ringraziare Carlo Fagliello, soprattutto, e Claudio Saltarelli, perché senza di lui, infatti il concerto lo dedichiamo a lui, perché ha fatto l'ira di Dio per farci venire qui a Napoli. Infatti siamo onorati di essere una città dell'arte in assoluto. Io sono Alessandro Parente, nasco a Corena Usogno il 14 marzo del 1959 e provengo da una famiglia contadina. Adesso ho portato questo organetto perché Claudio Saltarelli, che è un studioso della cultura contadina e della terra di lavoro, questo è un organetto che ha circa 90 anni. Io nasco con Zio Vincenzo del Semi, detto il calabrese, perché il papà proveniva dalla Calabria e nasco, le ance sono rovinate, l'organetto perde aria, però questo è un organetto con cui ho iniziato, con cui io nasco da questo. Io nasco dalla ballarella che mio zio suonava. Calcolate che mio zio dopo la Seconda Guerra Mondiale suonava questo organetto, era chiamato per suonare durante la mietitura del grano. Lui raccontava che 20-30 picciotte mietevano il grano e lui le allietava durante tutta la giornata di lavoro. Lui suonava e cantava. Pensate che con questo strumento lui suonava i panerali, suonava nelle comunioni, suonava anzi.